Ciao ragazzi, sono Joker Coca-Cola! Anche oggi vi vestirò una bottiglia spettacolare che arriva dal paese dove ci sono gli animali che saltano come me! E' uno dei più famosi animali! Infatti ragazzi, arriva dall'Australia! Questa bottiglia è stata creata in commemorazione e in un'edizione speciale. E' una bottiglia in vetro, tutta frappata in plastica, con il tappo a vite, come potete vedere. E' rosso e ha la scritta Coca-Cola in là. Questa Coca-Cola è stata fatta in un'edizione per la Nandos ed è stata creata da un designer che si chiama Mary Pham. E' una bottiglia del 2007, molto particolare, da 385, quindi è una misura molto più grande delle comune bottiglie in vendita qui in Italia. Ragazzi, alla prossima!